Prendete pure la tessera di sicurezza, ma non cantate vittoria. Sta surriscaldando. Non ci siamo. Il Nemesis segnerà la vostra fine. A me non fa tutta questa paura. Se è qui, lo troverò. Ora ho tutto quello che mi serve. Deve esserci qualcosa di utile qui. Sì. Possiamo scappare. Muoviamoci. Forse dovrei dirvi che siete un bel gruppo, ma lo sapete che non si dicono le bugie. Ora saranno su di te. Ben fatto. Bel lavoro, ragazzi. Ben fatto. Ci scusiamo per la breve interruzione del servizio. Grazie. Sono rispondedosi. La prima, la torta che. Vorrei. Tornare. Tornare. È. Tornare.